Più di 500 furti e manomissioni di lettere emissive dalla fine del 2019 ad oggi è successo al centro di meccanizzazione di poste italiane di Milano Roserio in via Belgioioso 165, dove 5 dipendenti delle poste, 2 uomini e 3 donne, sono stati denunciati dopo essere stati colti in flagranza di reato mentre rubavano da buste e pacchi che transitavano per il centro. Grazie alla stretta collaborazione con il Fraud Management di poste italiane per l'intera durata delle indagini e all'installazione di microcamere nascoste, i carabinieri del nucleo operativo Milano Magenta hanno potuto ricostruire l'escalation predatoria dei più di 500 casi accertati, indirizzando l'indagine sul personale di uno specifico settore di smistamento denominato Corrispondenza 1. I 5 dipendenti autori delle manomissioni agivano secondo modalità e una tecnica evidentemente consolidata nel tempo, come si vede dalle immagini nel corso dello smistamento della corrispondenza, i dipendenti sottraevano dagli scaffali diversi pacchi e buste da lettera, riponendoli all'interno di un borsello, tipo un marsupio legato in vita sotto il giubbotto di servizio fornito da poste italiane. Dopodiché nei pressi del proprio armadietto ne verificavano il contenuto e se ritenuto di interesse se ne impossessavano. A casa degli indagati, durante le perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria, è stata rinvenuta moltissima corrispondenza trafugata, con ancora le buste e gli indirizzi di mittenti e destinatari. Tutti e cinque i dipendenti sono stati denunciati per il reato di appropriazione in debita con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio, nonché per la violazione e sottrazione di corrispondenza.